zombie apocalypse ciao ragazzi bentornati nel mio canale quest'oggi andremo a riscattare i premi della weekend league che attendevo con ansia visto che come possiamo vedere sono quelli della 14esima posizione mondiale quindi ci vanno a garantire 4 pacchetti da 100k un pack ultimate con 11 if e 150.000 crediti vi preannuncio che io sto registrando il mio audio dopo aver già aperto i premi quindi adesso vi lascio ai pacchetti dopodiché ci rivediamo per le considerazioni finali ciao 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 ed eccoci qui ragazzi quindi come avete visto ho trovato veramente il mondo ho trovato pogba che si aggira come prezzo più o meno sul mezzo milione chiellini che ha anche i suoi 80k palivale due togs anche se non fortissimi un if un hero veramente questi premi non potevano andare meglio come avete visto non ho aperto gli if perchè quelli li conservo li aprirò quando ci sarà una squadra e la settimana che mi assicurerà un maggior numero di crediti perchè questa non è tra le migliori che sono uscite fino ad oggi dopo queste sculate non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a un prossimo video e di ricordarvi di lasciare un mi piace ed un commento ciao ragazzi ciao